bella a tutti ragazzi e benvenuti alla reaction di fiorentina milan noi siamo qua come al solito su twitch con i ragazzi a vedercele insieme a commentare io vi ricordo che il canale twitch c'è il link nella bio per venire a seguirmi e venire a gustarci insieme queste simpatiche live reaction allora formazioni formazione della fiorentina dragoschi milenkovich pezzella martinez casares buonaventura pulgar castrovilli esseric vlaovic riberi formazione milan donna rumma teo ernandez tomori kier dalot che si tonali salemakers cialanoglu braim diaz e zlatan ivraimovic e niente raga fra poco sta per iniziare la partita speriamo bene e niente forza milan si inizia buon milan fiorentina tutti quanti prima palla per i rossoneri ricordo che le divise viola per la fiorentina bianchi per noi subito lancio lungo per zlatan mamma mia prova a spizzarla per braim palla respinta calcio d'angolo fiorentina primo angolo della partita cross dentro palla sul secondo palo carassare se la rimette dentro occasione atalanta rivediamo casare se la rimette milenkovich hanno è stato ma che traversa atalanta fiorentina ma raga ma che strati ma gioca la tala me regalo ma come ho detto atalanta ma ho detto atalanta veramente e insomma e insomma ton vm sul pezzo calcio d'angolo fiorentina ma perché si riparte tomori è fiorentina che sta dando l'impressione di essere veramente veramente chiusa attenzione kier lancio per ibra ibra in aria ibra zlatan ibraimovic oddio dal nulla dal nulla la posizione sembrerebbe regolare l'arbitro che dà buono il gol però vediamo comunque kier da metà campo vede ibra che sta per partire fa il lancio vediamo servirebbe uno stop però esatto bisogna aspettare però giocata super intelligente di kier le quali abbiamo già visto giocate così di kier che lui fa questi lanci qua se tu parti e sei in posizione regolare sei in porta come è successo in questo caso super zlatan 1-0 milan vediamo se è tutto confermato assolutamente sì tutto buono milan in vantaggio riberi no dalot cristo fallo sull'angolo retto dell'area di rigore per la fiorentina punizione pericolosa dalot è entrato completamente in ritardo parte pulgar va diretto in porta al tiro donna rumma gol uno a uno si sta lamentando i giocatori del milan non so per cosa grande punizione di pulgar qua donna rumma non lo so voglio rivedere il replay ma il diciassettesimo pulgar la pareggia attenzione palla dentro colpo di tacco incrocio dei pali oh mio dio chi è che è stato riparte il milan però tonali prova ad anticipare niente recupera la palla la fiorentina regà ma regà ma che tacco tacco e incrocio dei pali pieno di tacco chi è che è stato castrovì no chi è che l'ha preso di tacco madonna pulgar sotto al set pezzella sì vabbè pezzella di tacco che quasi la mette sotto l'incrocio dai dai vabbè c'ha la noglu c'ha la noglu palla dentro per ibra 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 traversa ibra tu per tu con dragoschi prova pallonetto traversa che palla di cialanoglu posizione regolare finisce qua il primo tempo di fiorentina milan un buon milan un buon milan ha sciupato un'occasione ibra ibrahimovic che più che sciupato è stato un vero peccato perché bella azione di del milan poi palla per cialanoglu trova il corridoio giusto per ibra che aveva contro dragoschi un difensore fa un pallonetto che si stampa sulla traversa grande occasione anche però per la fiorentina che ha trovato un incrocio dei pali con un tacco allucinante al volo su un calcio d'angolo di di pezzella e ricomincia il secondo tempo di fiorentina milan martinez palla in fascia cross dentro attenzione vlauvi ce l'appoggia riberi 2 a 1 fiorentina 2 a 1 fiorentina che coglioni raga calcio d'angolo milan c'ha la noglu sulla palla pronta a battere c'ha la palla dentro calcio d'angolo ancora terraciano l'allunga che contro di noi le squadre si vabbè ma a parte quello è la parata cazzo era diretto in porta si si fra si si fra sono d'accordo c'è pezzella ci sta per mettere un gol di tacco al volo sotto l'incrocio c'hai renditi conto te calcio d'angolo ancora c'ha la noglu palla sul secondo palo chiar di testa palla che resta lì braim cazzo braim diaz 2 a 2 palla in mezzo al campo mamma tu mori passaggio per braim palla perché si che si che si giocala che si palla per cialano agluturo a canna eccolo qui eccolo qui a canna a canna eccolo qui eccolo qui grandissimo grandissimo recupero di tomori a centro campo che la gioca che si che si avanza e al momento giusto fornisce un gran pallone a chessi a cialanoglu e cialanoglu con un goloso diagonale la va a piazzare sul secondo palo vediamo tutto regolare qua si che cazzo protestano i giocatori della fiorentina che cazzo protestate mamma mia che mamma mia mamma mia cialanoglu mamma mia acan mamma mia franco e acan bravo gigio a tenere in campo questa palla qua che se no era calcio d'angolo fiorentina e tutti sappiamo come sarebbe andata a finire attenzione ultimi istanti di questa partita palla per ibra e finisce qua grandissima prestazione dei ragazzi fiorentina 2 milan 3 mamma mia mamma mia mamma mia togliamo la chat sabolli mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia che partita che partita grandi ragazzi ottima ottima prestazione ancora un po' di leggerezze sui gol che abbiamo presi però ottimo 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 come abbiamo reagito gg veramente grandi ragazzi cazzo